Poco meno di due ore questa mattina nell'aula bunker del carcere di Trani per riprendere le udienze del processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andrea Corato, che provocò la morte di 23 persone e 50 feriti. Si continua con l'ascolto di diversi testimoni, in particolare dipendenti di ferrotranviaria come Capitreno, Macchinisti e Capostazione. Dall'udienza odierna non sono emerse particolari novità rispetto al passato, l'ultima udienza lo ricordiamo l'11 dicembre scorso, ma sono state poste diverse domande a chiarimento di alcuni passaggi tecnici di gestione del flusso dei treni sulla tratta. Diversi testi che hanno già dichiarato sino a questo momento come il quantitativo di corse fosse raddoppiato, se non addirittura quadruplicato, nell'ultimo periodo prima dell'incidente. Dalle diverse testimonianze è emerso ancora una volta un dato ormai piuttosto acclarato, la gestione dell'incrocio era molto complessa a causa dell'aumento delle corse e del binario unico. In sostanza Capitreno e Macchinisti non avevano probabilmente la concreta possibilità di verificare con i Capistazione gli incroci, ed è quello che sarebbe accaduto proprio in quella mattina del 12 luglio 2016, quando l'errore nel Capostazione non fu evitato anche a causa della mancanza di identificativi esterni sui convogli. Mercoledì prossimo, 15 gennaio, nuova udienza sempre nell'aula bunker del carcere di Trani, dove saranno ascoltati ancora altri dipendenti di ferrotranviaria. Nel processo sono costituiti come parte civili la Regione Puglia, i comuni di Corato, Anderruvo, alcune associazioni, oltre ai parenti delle vittime e ai passeggeri sopravvissuti dinanzi al Tribunale di Trani, dove invece sono imputate la società ferrotranviaria e 17 persone fisiche, tra dipendenti, dirigenti a vertici di ferrotranviaria, un altro dirigente del MIT e due direttori dell'Ustif Puglia, Basilicata e Calabria.